Beumor getta il cuore oltre l'ostacolo del Covid-19. Il Festival dell'umorismo è infatti pronto a lanciarsi in un'edizione eccezionale che sfrutterà tutto il potere del digitale per aprirsi ancora di più al suo pubblico nazionale. Da Tolentino, il 28 e il 29 novembre andranno in onda i primi filo show web di PopSofia, registrati in diretta all'interno del meraviglioso Teatro Nicola Vaccai, Fruibili Online. Questa cornice sarà scenografia degli interventi inediti di ben 19 filosofi. Dalla legge di marfia alle vacanze intelligenti, dalla teoria del complottismo alle legge dell'italiano medio. Gli ospiti ragioneranno con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli sul tema di questa edizione, la stupidità. Un argomento di estrema attualità, enfatizzato nel sentimento della rete, tanto da non poter essere più relegato a banale stato di alcuni. L'occasione sarà un modo per omaggiare il centenario della nascita di mostri sacri come Federico Fellini e Alberto Soldi e per emozionarsi nel ricordo di due interpreti assoluti che ci hanno da poco lasciati, Franca Valeri e Gigi Proietti. Tali tributi saranno accompagnati dai brani musicali eseguiti dal vivo dalla band Effectory. La seconda serata vedrà un simposio sulla stupidità con le musiche della band che giocheranno sulle note di quel rock demenziale che sfrutta il nonsense per tirarci fuori una risata. Come sempre gli eventi di Biomore sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi sui siti www.biomore.com o www.popsofia.com. La procedura è stata attivata. Gli spettacoli andranno online dalle ore 21 e 30. Biomore 2020 è promosso dall'amministrazione comunale di Tolentino ed organizzato dall'associazione Pop Sofia.